c'è un uomo che entra al bar e chiede un whisky dopo un minuto mi dai un altro whisky si beve il secondo whisky al terzo whisky al quarto whisky al quinto whisky il barista gli dice ma non starei esagerando hai ragione poi con quello che ho perché cos'hai un euro e cinquanta